La cerimonia di oggi è molto importante perché rientra in qualche modo nell'espansione strutturale sul mercato italiano, l'Italia è un paese chiave. Anche Napoli è strategica per la nostra strategia, per la nostra rete perché ci aiuta a migliorare la connettività in Europa e anche in Italia, quindi sul mercato nazionale e ci aiuta ad arrivare a sempre più persone. Rappresenta un ulteriore salto di qualità anche perché la materializzazione della nostra strategia di dare a questo aeroporto una vocazione sempre più internazionale? Fondamentale e molto importante per il progetto di città che abbiamo perché è una base operativa che viene stabilita qui a Napoli nell'aeroporto, significa posti di lavoro perché sono circa 30 assunzioni dirette e 400 persone come indotto, immediatamente diversi voli diretti nuovi verso il centro e il nord Europa, verso l'est e verso il sud Europa, quindi Napoli che diventa sempre di più una città turistica ma anche importante per le persone che si muovono per lavoro, quindi anche una base comoda, un aeroporto positivo, del resto gli indici di qualità del nostro aeroporto lo mettono ai vertici degli aeroporti italiani, quindi investimenti importanti che il settore pubblico e il settore privato hanno fatto nella nostra città.